Ciao a tutti e tutte e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Liberamento in Camper. Ogni tanto mi chiedete di farvi vedere un camper americano. Allora facciamo un passo indietro. Qualche settimana fa sono stato alla masseria Mazzetta, la corte dei falconieri in Puglia. I proprietari sono camperisti e quello che vedete è il loro camper. In realtà me l'ha fatta vedere all'interno, ero molto curioso perché erano i miei vicini quindi volevo vederlo. Si tratta di un americano, 6.000 di cilindrata, 8 metri di lunghezza. Vi do qualche indicazione di massima. Impianto GPL alimentato a benzina, percorre una media di 5 chilometri con un litro di GPL. Se volete io ho il documento, il libretto con tutte le caratteristiche. Intanto vi dico che hanno intenzione di venderlo perché sono rimasti marito e moglie, i figli sono più grandi quindi ne vogliono uno più piccolino. Chiedono 65.000 euro, però se avete bisogno di maggiori informazioni scrivetemi nei commenti una vostra mail o un vostro contatto e io vi girerò i riferimenti dei proprietari. Oppure potete tranquillamente cercare su Google Masseria Mazzetta, chiedere del proprietario e lui sa darvi tutte le informazioni. Intanto guardatevi le immagini, io l'ho proprio prese così, come era nudo e crudo, senza tagliare, senza mettere in ordine, esattamente così come è vissuto il camper. La cosa sbalorditiva ovviamente sono gli spazi all'interno. Quando la parete laterale si allarga diventa veramente uno spazio casalingo, con un divano a ferro di cavallo, una poltrona, il bagno stracomodo, letto matrimoniale di dimensioni casalinghe e una cucina che avete visto, cioè forno, frigo, freezer, due tipi di forno, la veranda elettrica, pannelli solari, batterie, aria condizionata nella cellula, solo per citarvi qualcosa. Però insomma mi piaceva farvelo vedere, anche perché io ero curioso e penso anche altrettanto voi. se avete bisogno chiedete pure del proprietario di Masseria Mazzetta, la Corte dei Falconieri in Puglia, lui vi darà tutte le informazioni oppure scrivetemi per mail e io vi girerò la copia del libretto così avete le caratteristiche.